Dal me al noi, cioè perché è importante per ragionare lui tornare a concentrarsi prima sul me? Ovviamente guardando anche la tua esperienza, perché tu sei stata insomma un anchorwoman di successo e a un certo punto della tua vita hai detto basta, è ora di ripensarsi. Quindi siamo incontrati a pensare che tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è essere successivi, che quando abbiamo il lavoro, quando abbiamo il partner, quando abbiamo i figli, allora siamo felici, ma mia esperienza è che non è vero, ho avuto tutte queste cose e ho diventato molto depresi e ho realizzato che non sono la risposta, e ho realizzato che ho cercato di rendere migliore per ottenere le cose dall'interno, e se si guarda la società di depresione e di self-harm non è vero, non è vero. Perché è questo? È perché non stiamo guardando l'interno e quando facciamo il lavoro che dobbiamo fare all'interno, quando iniziamo a curare le malattie che abbiamo tutti da bambino e quando passiamo la vita e quando iniziamo a collegare con ciò che ci porta il significato e il purpose, allora è il momento di andare fuori nel mondo e cercare di fare una differenza. Ah, avete definito nove principi, novi dogmi che passano dall'onestà all'essere autoaccettarsi, all'essere poi gentili all'amore. Sono esaustivi, insomma, sono quelli su cui concentrarsi ed esiste una gerarchia tra questi. All'essere sono ugualmente veri, e se vogliamo essere felici, bisogna portare tutti i nostri livelli, ma questo è una grande parte di verità per digerire, quindi è facile fare l'interno per l'interno, e abbiamo messo la cosa che crediamo sia la migliore ordine per l'interno, e comincia con l'onestà, perché molti di noi pensano che siamo honesti, ma c'è una persona che ci stiamo dicendo di un giorno di un giorno, e è che ci stiamo dicendo di un giorno, che ci stiamo dicendo di qualcosa che ci stiamo non ci stiamo dicendo di un giorno, che ci stiamo dicendo di gestire, che ci stiamo vivendo più piccoli, che ci stiamo vivendo, quindi dobbiamo cominciare con questa relazione e con l'onestà, perché se non sappiamo la nostra verità, come possiamo cominciare a andare all'interno del mondo? Quindi questi principi sono presentati in un modo che comincia con la relazione con noi, e poi ci prende a nostre relazioni con noi, con noi che sono vicini a noi, e poi ultimamente con le nostre relazioni con l'onestà. Questo WE è un manifesto per le donne di tutto il mondo. Oggi si discute molto di cosa deve essere la donna e che ruolo deve avere nella società. Quale deve essere poi questo ruolo, insomma, paragonando anche ai movimenti del passato, a quello che fu il femminismo, cosa è cambiato? Cosa vuol dire essere donna oggi e che ruolo possiamo avere anche nel cambiare la propria intimità, ma poi la propria famiglia, la propria community, il proprio paese e il mondo? Tutti noi, come donne, abbiamo molto sulle nostre relazioni e le pressioni hanno aumentato, la pressione per avere tutto, non è sufficiente ora di essere in casa, ora dobbiamo essere successivi, dobbiamo essere in l'unico mondo. Ma per me, il femminismo è stato passato nella stessa direzione, e quindi, come femminista, ho trovato a lavorare per 50%, per ottenere il mio posto alla tavola. Ma, in realtà, stiamo lavorando per 50% di un sistema che è rompito. Il sistema non funziona, non servevano a noi e non servevano gli uomini. Si tratta di un'idea di lavoro, che si tratta di un lavoro di lavorazione 150-200 anni fa, dove le persone non avevano responsabilità di care e non voleva essere in casa e non voleva vivere una vita holistica. Quindi, dobbiamo guardare tutto il sistema, e dobbiamo cambiare tutto il sistema. Non è vero che solo si tratta di un'idea di donne per un sistema che è rompito, dobbiamo farlo fondamentale, perché c'è una forma diversa di fare cose, una che servevano tutti noi, gli uomini e le donne, molto meglio. Tu, oggi, sei scrittrice e sei anche attivista. Abbiamo parlato appunto di come questo cambiamento, questo WE, deve riguardare tutti, uomini e donne. Un mondo che, in primis, vede come problema quello dell'asperequazione, della ricchezza, del lavoro. Che soluzioni si possono vedere per cambiare il sistema? Cioè, esiste una nuova via anche di fare economia, in tal senso? Nel momento, abbiamo un sistema dove, ogni giorno, 700 milioni di donne vengono a dormire, e nel sud, abbiamo problemi di obesità, e persone che hanno troppo. Abbiamo un uomini che morano ogni minuto, in childbirth, perché ha bisogno di un'intervente chirurgico che non è disponibile, e poi abbiamo un uomini che facendo un'intervente plastica, perché non si sono conforti con il modo che sono agevano, o che non si sono conforti con il loro corpo. E' un modello che si sono diventato, è un modello che si sono diventato. ed è un modello che si sono diventato, possiamo cambiare questo. Abbiamo un modo molto legato di guardare la economia, e è un sistema che è basato su crescente crescente, e è un sistema che non prende in considerazione il costo dei risultati e il costo del nostro planeto, o il valore del lavoro di carico. Le donne hanno fatto la parte della carica, e nessuno di questo è accordato economico. e ci sono un modello molto diverso economico che potremmo usare, che valerebbe il lavoro non pagato, e che valerebbe anche il nostro planeto vivere. E se abbiamo avuto questo modo di guardare la economia, tutti saremmo più felici, tutti saremmo viveremo più calzati, lavoreremo meno, consumeremo meno, ma avere più tempo per le cose che importano. E, ultimamente, sono le relazioni che importano, c'è la nostra connessione con altri umani, che portano un significato, non ciò che abbiamo, ma chi siamo. Cosa possiamo fare, ognuno di noi singolarmente da ora? Cosa possiamo fare ora, è quello che sta in questo libro, che è fare il lavoro, per curare noi, per cui possiamo poi andare fuori e essere di uso. Siamo tutti attivisti ora, abbiamo visto che non possiamo lasciare i nostri politici, abbiamo visto Trump essere eleccionato, abbiamo visto il Brexit, abbiamo visto il Brexit in l'Unione. Qui in questo paese, abbiamo 40% di nonostrapposti. È vero. è vero. È vero. che è vero. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero. poi ciò che siamo afterse. Quindi, ciò si potremmo fare, ciò si potremmo contenere, di una copia con una copia, leggere il libro, facciamo lo che ciò che ciò che ciò si tratta, facciamo una legge in cui ciò che ciò che ciò che ciò si tratta, e poi ciò che ciò che siamo arrivati al mondo. E se tutti ci sono a che ciò che ciò che ciò che ciò ciò si tratta, ciò ciò che ciò 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 si tratta. Quindi, pesce l'unione.